Santa Maria Goretti Maria accudiva i fratellini e teneva in ordine la casa Nel 1900 rimase orfana di padre, morto di malaria e con la madre e i fratelli sopportò sacrifici e angherie da parte dei proprietari Il 5 luglio 1902 Alessandro Serenelli, approfittando dell'assenza degli adulti, cercò di abusare di lei ma non riuscendoci la uccise Prima di morire Maria perdonò il suo aggressore per amore di Gesù Il 24 giugno 1950 Pio XI la canonizzò davanti a una folla immensa